Salve a tutti ragazzi e bentornati in Mortal Kombat Conquest. Adesso dove devo andare? A cercare Hermak. Hermak? Hermak? Ho conosciuto anche come Errore Macro. Errore Macro? Errore Macro. Ma per i tempi decaminati del 92-93 su Mortal Kombat 1 c'era questo glitch che a Scorpion, invece di apparire con la solita tutina gialla o arancione, appariva rosso e con la scritta Errore Macro. 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 ok adesso no no l'altra parte si basso per prendere la canzoncina la mia canzoncina dammela altra parte invece c'è una cassa con una chiave ah ah, telecamera ah mosca c'è di tutto qua oggi mosca, monetina, che parli questo monito, monito c'è lo stesso logo che c'è l'hermark nella schiena dov'è? sto tutto qui? si ah ok Ok. Sono stati costruiti come un effetto di un cataclysmico non vero. Noi ci preoccupiamo con questi miti, però. Ora, vi honoriamo le nostre promesse e impariamo a te il nostro知識 di combat. Prepariatevi, come il potere di Ermac è rivelato. Ok. Il difetto che ha questo qua, però, è il fatto che molti attacchi non riesco a farli fino a quando non si è proprio attaccato all'avversario. Easy! Con quella bente in testa, quel torbante, sembra una munghia. Pollici in giù per la munghia, Ermac. Ma che ha, c'ha c'ha? È più grosso della sua testa. Per quanto riguarda la posa, è la stessa della tizia che abbiamo affrontato prima. Si. Nooo. Infatti entrambi sono delle forze del bene, si odiano. Anzi, il numero inizio non è delle forze del bene. Poi dopo è diventato. Dopo che Shao Kahn viene tipo distrutto. Adesso ci sono le mosse speciali. No. No. Strape. Strape. Oh Oh E poi per dire, è il contrario di Scorpione, invece di, vieni qua, vai di là, si lo manda via. E mo? Appena in tempo. Perfetto, adesso, ah. Abbiamo finito con Ermacore, c'è il combattimento contro Ashwa. Scusi. 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 Usate. Scusi. Scusi. Stiamo facendo il giro tondo. Non dimentichiamo di salvare se non succede come l'altra volta. Ho salvato, eh. Mh mh. Come faccio le prese? Con il tasto R. No, 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 sbaglio. È il triangolo più centro. Ah, pensavo fosse più difficile, dai. Scusi. 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 Pazzémonte. Abbiamo finito. E mo? Dopo questo, siamo nel regno del caos. E mo? Che succede con lei? Niente. Lo scontro di loro continua, ma noi non possiamo vederlo. ma se non ci fosse mai stata nel gioco il kamidogo dell'inferno possiamo ritornare sul nexus Ah, buona sapersi Damashii, Damashii, dove sei? Stocca! Chi osa chiamarmi? Chi osa distrarre le mie partite di Hawker? Si mi avatari sarebbe stare qui per molto lungo o descendo troppo lungo io potrei trattare l'arrivo Ma avatari? Non ho capito Non ho capito Non ho capito Non ho capito Ma bene Non ho capito Non ho capito Non ho capito Chichiko Retornare sul nexus Ecco, ora ci troviamo nel nexus e ora c'è un combattimento con uno dei miei personaggi preferiti Spoiler No, niente spoiler perché ora No, ero spoiler Si è a cavolata Non ho capito Non dico che personaggio sia ma si auto presenta da sopra Andiamo all'altare Mettiamo nel secondo E abbiamo Stop where you are, intruder I am the Elder God's chosen warrior I have been sent to protect the nexus from trespassers Your presence has defiled this sacred place Leave now or face my wrath Perchè? You are mistaken I am the Elder God's champion Stand down You leave me no choice Prepare to be destroyed No Però ho notato che La musica Eh ma porca puttana Ok Uno dei miei personaggi preferiti Il campione Fasullo? Si, il campione Il vero campione degli dei Si Tutto qui? Si Sono tre round Ah ok Round 2 Fight! Non vedo! Ultimo round Round 3 Strange 开始 Stop Care Se Altra Oh Oh Ah! 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 Avevo lo spuduta di vita! C Federal! C Federal! Ah.... ...e mo? E mo? O di qua? Autosavattaggio Ok Cos'era? Noobu Saibo Saibo Il fratello maggiore del secondo San Francisco Quando mi presenso la Presenza era luminosa in Riponero, ma non conoscevano lo. Si, si chiede a ci si chiede il senso di neuronale al XIII, crede che sia il loro champion? Si pensi e che sia il problema, come ho detto prima, tu sei il suo champion! Musi continuare a studiare in questo ralto, il rielo del Caos. Caos? La natura di questo rielmo è uno di un turmo costante. I sogni qui opposano la ordine e la struttura. Il caos è la loro religione. Ah, noi non crediamo di essere... Esatto. No, allora ho capito bene. Infatti per questo è che è intervenuto per dire che cavolo sei tu. Ma sono il campione. Ma che cazzo ti conosci? Esatto. Comunque, purtroppo io lo voglio interrompere qua perché devo farlo per questione di tempistiche.